Welcome to Miro TV, ragazzi sono in compagnia di Benji Elite, Queen of the Universe, bella puntata di Smackdown, incentrata un po' troppo forse su Roma Rains Però è pure giusto, è andato circa un'ora di puntata, però c'è stato anche tanto puntato bello Io sono davvero stupito quando penso al fatto che i booker di Raw sono quelli di Smackdown Non è vero, è una menzogna Fatico più a crederci a questa roba che abbiamo letto negli ultimi mesi Perché Smackdown secondo me a livello di script, proprio di puntata, non di personaggi Forse beh, mettiamoci anche quelli, mettiamoci Però lo script di puntata mi sembra troppo superiore a quello che ci offrono a Raw Io sono davvero colpito da questa cosa Stata puntata di Smackdown è stata secondo me bellissima, c'è stato tanto lottato Ma anche tanti segmenti davvero belli Secondo me l'opener di questa puntata di Smackdown è uno dei migliori degli ultimi anni Questo è poco ma sicuro Beh, diciamo un mega opener di 40 minuti, però cazzo bello Sì, ok, hanno avuto tanto minutaggio, però tutto quanto filava Ed era anche complicato far interagire le cose bene tra di loro Perché siamo partiti con Cesaro sul ring per la prima volta Ah, Cesaro ha aperto Smackdown Ok, sono interrotto poi subito da Rollins, i classici discorsi dell'ex messaia Che ancora non si è sentito dare i ricomplimenti Perché Cesaro secondo lui è sbocciato soltanto grazie a Rollins Che si è offerto lì come Carlo di Navagella e Oreste Lenia Il che è vero, ma insomma Rollins l'ha messa tutta sotto un'altra luce ovviamente Poi poco dopo, mentre Cesaro e Rollins stavano battipeccando Risuona la team di Jey Uso, un casino proprio Jey che si schiera da una parte di Rollins Dicendo che Cesaro non potrebbe mai battere Jey Uso Figuratevi Roman Reyes Figuratevi, ok Roman Reyes Figuratevi Zett Rollins Quindi roba che si stava davvero mettendo bene una dell'altra Sì, poi è arrivato l'intervento di Brian Che è andato a tirar su un promo incredibile È andato a puntare il dito contro Rollins Che dice perché tu sei uscito Forse perché sei ancora imbarazzato da quello che è successo Va a alzare poi da Brian lo status ancora di Cesaro Va a rimarcare un po' tutto quello che è successo in questi mesi Con Roman Reyes, Jey Uso eccetera eccetera Quindi va a riprendere Tu Roman Reyes hai paura di Cesaro Perché sai che senza Jey Uso non potresti battere Senza Jey Uso non avresti battuto Roman Reyes Senza Edge non avresti battuto me Senza che Jey Uso non avessi battuto Edge E senza nessuno potresti battere Cesaro Insomma, bello, è stato davvero bello Lunghissimo dove poi si gira sempre intorno a questa sfida Cesaro, Reyes, Cesaro, Reyes, Cesaro, Reyes Ma Reyes nell'opera proprio non esce fuori Anzi no, a un certo punto esce fuori Vabbè sì però Per lasciare però Cesaro e Bondan e Brian Nelle mani di Jey Uso e Seth Rollins Un Rollins che ci è rimasto forse un pochino male Perché Roman l'ha degnato di uno sguardo Durante il suo provo Però è stato lì tutto il tempo Rollins in mezzo Dalla parte c'era la fazione Roman Reyes Dall'altra c'era sul ring Brian e Cesaro che tutti sticano C'era Rollins lì Capito? C'era una tenerezza incredibile Però insomma diciamo che poi il club si è risolto Con un match, un due contro due Bellissimo Assolutamente sì Hanno preso davvero tantissimo minutaggio Hanno mandato se non sbaglio due pubblicità E non si vede spesso sta cosa perché davvero Hanno combattuto per tantissimo tempo Ma l'hanno fatto dando però vita a un match Secondo me davvero straordinario Perché gli spot che ci hanno offerto Cesaro e Daniel Bryan Erano quelli di due che ci tenevano a rompere davvero Il cosiddetto a Jey Uso e Seth Rollins A un certo punto addirittura Alex Messiah si stufa Di fare quel tipo di match e se ne va Dicendo io non ho bisogno di tutto questo Io sono Seth Freaky Rollins Sti cazzi di sta contesa Stiamo anche troppo su ring con sta gente qua Me ne vado e lascia quindi Jey Uso da solo E a quel punto il cugino di Reigns Fatica tantissimo a reggere quel ritmo di match Con Cesaro e Daniel Bryan Che erano proprio un fire Hanno fatto un grandissimo match E ecco per farlo a breve Il povero Jey Uso viene fatto fuori da running in di Daniel Bryan Uno, due, tre Daniel Bryan e Cesaro vincono sta contesa E' stato tutto bellissimo Perdonami a me sembra un po' questo del Bryan Che continua ad essere un po' stronzetto Continua a tirare le frecciative Però è un po' quello che faceva qualche mese fa Che manda avanti le altre persone Perché lui stava lì per tirare ancora su questo status di Cesaro Ed anche negli spot Cioè ha fatto vedere tanto Cesaro Mi è piaciuto come è interligito con Rollins E Rollins che ha ripreso un po' quello che diceva Daniel Bryan Cioè tu sei qui perché ancora ti rode per quello che è successo con Cesaro Tant'è vero che poi magari l'ho letta così Durante il batch Se Rollins ci pensa Ci pensa Ci ripensa Ci ripensa E a un certo punto Piuttosto magari di fare un'altra figuraccia Se ne va Abandono Jey Uso Mi è piaciuto tantissimo Io sì Abberta davvero tantissimo il punto di vista Il perché Rollins a un certo punto Abbia deciso di andare Secondo me la leggo come se Abbia rimuginato Tipo guarda Faccio un'altra figuraccia Io invece l'ho letta Il fatto Sto match sta a durare davvero troppo Perché devo ancora sporcare Mi mano con questa gente qua Io sono set freaky Rollins Me ne vado Cioè basta Mi sono rotto le palle Comunque tutta la legge Il fatto che Rollins si è allontanato da Jey ci stava A prescindere Ci stava davvero tanto Anche perché c'è da dire Che manco Romarenza Ha trattato benissimo Rollins L'avevo detto poco prima Non se ne è proprio filato di uno sguardo E sta cosa forse Chi lo sa Io sono tante sfumature Che a Rollins Insomma fanno un po' sulle palle Però è giusto Ho trovato davvero bello Sto inizio qua Poi post match Sta a Gey Uso Che prova ad attaccare Daniel Bryan e Cesaro Che erano ancora lì Rimasti a parlare Con il microfono in mano A quel punto ragazzi Cesaro afferra a Gey Uso Gli inizia a fare una swinging Continua Di qua di là Daniel Bryan ci va pesante Inizia a contare Quante swinging Gli va a fare Cesaro Poi una volta che ha finito Prende il microfono in mano Gli dice Vedi che Romarenza non arriva E' bello Quando è andato A attaccare La famosa Bloodline Guarda Gey Uso Sei qui a prendere Il patto E tuo uggio Non esce fuori Romarenza Non esce Ti lascia qua Come forse Per cercare di far Svegliare Questo Gey Uso Quello che io ho sempre detto Su Gey Uso È trattato troppo male Da Romarenza Perché lui Secondo me invece Brian È sempre quello che ci mette Il cuore Per proteggirlo Secondo me Brian invece Stava invocando L'uscita di Reigns Stava provocando A un certo punto Va di lui stesso Li prendi a fare Forse a quel punto Reigns si farà vedere Stava dice Ah si Dice che questa Ma è una buona cosa E la rifà Sono due Faci Nel senso Tu si chiama Reigns Così Reigns Asce fuori Però Lì hai Gey Uso E gli vai a dire Guarda Ti stiamo attaccando E Romarenza Nesce Cosa che Gey Uso Ha fatto tante volte No È andata a salvare Ci ha messo Sempre la pezza Nei match Che voglia Svegliare Anche questo Non lo so Però ci sta Anche questa chiave Direttura Assolutamente Sì Fatto stacche Cesaro Quindi fa Altra volta Lo svegli Però niente da fare Reigns Non si presenta Poco dopo Paul Heyman Ci va a informare Con un strumento Ora nel backstage Che Romarenza Avrebbe parlato Nel main event Dando una risposta A Cesaro E Daniel Bryan Quindi Diciamo che Sto strutturato Davvero Tutto molto bene Anche perché Se volevi riproporre Poi Reigns È giusto che lui Non sia riuscito Nuovamente A interrompere Cesaro e Bryan Che stavano risolvendo Sì però ti devi vergognare Romarenza Cioè Con che faccia Poi fai a chiedere Le cose a James Io mi vergognerei A chiedere le cose a James Ma lui è tradotto Ma io mi vergognerei Che chiede le cose a James Cioè tu gli dai la guancia E lui ti dà tutto Pure il culo E no Così E no Alla Roa Juso Svegliati Non si sveglierà mai Juso Che gli va bene Questo trattamento Del campione universale Detto questo Non andiamo avanti E parliamo della situazione Del titolo intercontinentale Perché Apollo Crews È andata a polemizzare Con il buon Adam Pears E Sonya Deville Ma penso soltanto Adam Pears Che Sonya Deville A volte sta lì Soltanto per dire Sì hai ragione Adam Sì sì Ah che ne hai visto Sì Quello fa Sonya Deville Negli ultimi tempi Ma va bene così E Apollo Crews È andata un po' A storcere il naso Quando gli è stato Gli è stato fatto ricordare Che avrebbe dovuto Difendere il titolo Questa puntata Contro Big E E Pears però Gli ha fatto capire O tu difendi Il titolo contro Big E O adesso Ti cambia l'avversario E stasera Affronterai Kevin Owens Sì è stato carino Questo segmento Con Apollo Che giustamente Da una parte Io ne devo al culo Perché dice Scusami Ho vinto A presto al meglio Perché devo difendere Il titolo Io mi rifiuto Di rinandare Di nuovo Contro Big E Che però C'ha arrivare match Sì sì Però dice Ma perché Devo difendere subito Scusami Si rifiuta quindi Di andare contro Big E E Adam Pears Tirò fuori Questo Kevin Owens E lì a questo punto Deve stare zitto A quella Detta Adam Pears E quello di Va Mio caro Intercontinental Champion Ha storto parecchio Il naso A Polo Cruz E ci stava Anche quella Sua reazione Però dobbiamo Parlare proprio Di lui Di Kay Ho Che ha fatto Un segmento Poco dopo Nel backstage Un'intervista Che è stata Però interrotta In maniera Un po' Sorprendente Da Big E E vedere Quei due Uno di fronte L'altro Mi ha portato A dire Ma L'ha detto Lui Cosa vuole fare Con questi due Perché Sembrava quasi Davvero Che si volesse Dar più importanza A Kevin Owens È stato lo shot Che si è preso Un po' Ad an hour Non dire La cazza di cane Ha il fatto Che effettivamente Big E Abbia un rematch Da fare Pensate A Dosa Avesse vinto Kevin Owens Cosa sarebbe successo Nella testa di Big E Che per quanto Lui sia ironico Per quanto Lui voglia far vedere Stavolta Un simpaticone Lì Kevin Owens Non è che lo stava Guardando No Belle le parole Di Kevin Owens Che è andato A ringraziare Un sacco Per questa opportunità Di riprendersi Il suo titolo Aspetta Perché lui Il team intercontinentale Ci è molto affezionato Sì Però Ha fatto un promo Da super baby face Tipo uno Che non prende mai niente Infatti era pure Un po' moggio Però era contento Sono stata strana Lo status Di Kevin Owens Che viene proprio Interrotto da Big E Che gli evadì In modo molto cattivo Ah Quello è il mio match Però poi Si è preso Kevin Owens Lo stesso Perché è quello Detta da Pearson Sarà anche il tuo match Ma io stasera Avrò la chance Per il titolo intercontinentale Era chiaro Il messaggio Tra l'altro Sì Kevin Owens Che va pure A dargli ragione A Big E C'hai ragione Cioè Era il tuo ri-match Però è così Però è bello Mi ha molto Incorosito Anche lo sguardo Perché appena Di suonata poi La team I due stavano ridendo No Di suonata la team Di Kevin Owens Lui è diventato serio Anche Big E È diventato serio Io là Mi ha dato la sensazione Che potesse cadere Qualcosa di importante Ora non per niente Il match secondo me È stato bellissimo Sì E questo è stato Anche bello Perché Kevin Owens Apollo Plus Non è che si è soffrontati Tantissime volte Ultimamente E i due Hanno dato comunque vita A un match Secondo me Ben strutturato Ok che Apollo Si è fatto accompagnare Ovviamente Nel nostro comanda Comanda Aziz Che raga Per me hanno trovato La giusta dimensione Per lui Mi piace lì Mi piace lì Come figura Tra l'altro Comanda Aziz Disulterà essere decisivo Non soltanto una volta Ma ben due volte Mi viene da pensare No A parte il momento finale Durante il match A un certo punto Apollo Plus Si trova fuori dal ring Che è venuto Con il spunto A lanciarsi Che fa Quando si si mette Di fronte Al corpo di Apollo E a quel punto Non si lancia più Mi è piaciuto Come proprio Da comandante Si è messo lì Che fanno Te lanci Mi è piaciuto E' proprio ignorante Comandante Si no Ha senso Ha senso Sto colosso Che va Insomma A difendere A proteggere Il principe nigeriano Questo nigeriano Si questo principe Non è molto principe È modo a modo suo Chiamiamolo così No è stato molto bello Certo Un finale Un po' Discutibile Comanda Aziz Che sale lì E che lo guarda E dice Ma che vuoi E Apollo Ne approfitta Per fare Un roll up Intelligente In cui Tiene anche Le spalle Di Kevin Owens Però Insomma Cose misere Viste Che vanno bene Che fanno Per preservare Al massimo Il number one Però Forse Lui è solo salito Sul ring Kevin Owens Che cazzo Ti giri Guardalo Era bello L'ha guardato Io pensavo Una volta che Comanda Aziz L'aveva distratto Io Apollo Lo cruce Gli ha rifatto Fara finisher Nel senso Ci stava Ci stava Comunque Poi ci stava Lea Bordoring Semi Zane Che aveva interrotto Il match Poco prima Della prima pubblicità E quindi Però Semi Zane Non è che abbia fatto Tanto Tanto Si è andato a commentare Insieme a Pat E Michael Cole Altro grande applauso A Pat Che pure sta puntata Mi ha fatto divertire Davvero tanto Però Ecco Zane Non aveva fatto nulla Per distrare Questo che ho A differenza Di comanda Aziz Che Prima Ok Evita che Apollo Venga colpito Poi ed ha anche Una mano Allo stesso Apollo Che aveva preso Ragazzi Aveva preso Di tutto e di più La pupa power Aveva fatto anche Kick out La pupa power Ha fatto un volo Colossale fuori dal quadrato Mi era piaciuto molto Aveva preso anche La frog splash Fuori dal ring Il resto non mi ricordo Che ha fatto Una frog splash Fuori dal ring Bellissima In me è stato davvero Molto bello Però ecco Io ho evitato Lola per far perdere In maniera Più convincente Che io E a meno che Non vuoi puntare A un triple treat O qualcosa Che io Fa dal triple treat Fa dal fuori Perché stanno mettere Tutti intorno a sto titolo Me lo prenderei Sinceramente Non disdegno Non disdegno Però ti dirò A me sta pollo Non mi fa Vieni voglia Non vedo l'ora Che gli tolgono il titolo Perché comunque Il suo sta facendo Settimana scorsa Ha fatto quel promo Dove aveva deriso Big E Settimana Si è incazzato Giustamente con la campiera Ha fatto un buon match Contro Kevin Owens Post match È venuto In un momento risalto Il suo manager Che è decisivo Giustamente Essendo lui il Deve anche sfruttare Una personale del genere Quindi Boh Ci sono Spero da una parte Che Apollo Reste ancora campione Anche a presser Minia Badrash Perché comunque Secondo me Sta facendo bene Vediamo Perché c'è tanta La carne al fuoco Poi Poi c'è il post match Con Sevi Zayn Che va a ballare La team Di Apollo Davanti Al corpo Distrutto Al corpo Di coso Di Kevin Owens Distrutto Dal pugno Incredibile Di Comanda Aziz Di Comanda Aziz Stava vomitando Cioè L'ha stellata In una maniera Incredibile E lì è un po' Per ne mancare Quella cosa Che ha fatto parlare Su Lui Il balletto La maglietta E uscita Quindi Ovunque andremo Ci sarà Zayn Che fa il balletto Ma sicuro E poi Signori C'è anche L'attacco Addirittura Nel backstage Dove c'era Non so chi La commentatrice Che stava aspettando Una nuova intervista Di The SmackDown Non mi ricordo Che si chiama Vabbè Stava dicendo Fra un pochino Da questa volta Uscirà Apollo Occhio Esce Apollo Assalto incredibile Di Biggie Dove Mi ha fatto morire Di risate Proprio Commanda Aziz Che dopo l'attacco E Apollo Che rimane Lì per terra Commanda Aziz Non si sa Non si è perso Dei bucruidoi Arriva Da un po' Apre tutto fiero Vede Biggie Apollo E fa tipo Oddio Che è successo Apollo Bellissimo Bellissimo L'ho trovato Molto bello Lui era davvero Sorpreso Di vedere lì Apollo Che succede Chissà che stava Fala dentro Apollo Aveva detto All'intervista Di essere pronto Di celebrare Questa vittoria Su Kevin Owens Quindi stavano Organizzando qualcosa E probabilmente Stava organizzando Il comandante L'ho letto In maniera Molto filosofica E ci sta La reazione così E lui che apre E vede Apollo L'ira Oddio Che è successo Mi è piaciuto molto Che poi Biggie Era stato portato Via dagli addetti E devo dire la verità È stato un bel segmento E sta roba fa bene Troppo contento Tanta carne al fuoco Tanti atleti Intorno a un titolo In modo interessante In modo intelligente Andate avanti Assolutamente Assolutamente Sì Curioso direi Anche se ci sarà Una parola fine Sulla storyline Trasemi E Kevin Owens Che potrebbe però Essere messa Nel Nel tubo Lì del titolo Intercontinentale Vista così Sarebbe anche Un po' Una generata Di semi Zayn Tutta sta storia Qua Chi lo sa Chi lo sa Chi lo sa Dove arriveranno A parare Con tutto Sto cammino Qua Questo andiamo avanti E parliamo Di un match Che ha emozionato Per ogni Da inizio Alla fine Parlo ovviamente Di Tamina Contro Naya Jax Lascio la parola A lei Perché l'ho vista Perdere diverse lacrime Durante il loro match Che davvero Poi addirittura Ci hanno fatto anche Recap Del loro Una grandissima Contesa A resta di me Il tour A resta di me A momenti di Tamina Che ha sciolto i cuori Basta di tu qualcosa Vabbè Niente Sono frontale Naya Jax E Tamina Un match Incredibile Bruttissimo Che non vuole Vedere nessuno Io continuo a vedere Da vedo lì Che pompa Sti cori Quando ci sta Tamina E cosa E Naya Jax Ma la gente Ma la gente Sul Tandro Lo sa così Sì Hai fatto cosa La relazione Del Tandro Io Io Cioè Come vi fate A non guardare Il Tandro Ma è ancora Mandare Tamina Tatale Basta Basta Non è che se voi Montate i cori Che la gente Gli piace Questa cosa La gente Gli piace davvero Cazzo Guarda un attimo Gli scherbi Guardate Le facce Così stanno Ma basta E poi Perché Per vedere Questa roba Con Naya Jax Che va A perdere Il match Perché È tornato Reginald Che ha avuto Un attimo Uno scarabizzo Con Shina Quella si gira E fa Shina Cosa fai Con Reginald E Tamina Ne approfitta Ma sti grancazzi Ne approfitta Poi lasciamo staccone Ma sti grancazzi Ma poi su quel superkick L'ha presa sulla tetta E ha fatto un male cane L'ha uccisa Ma sti grancazzi Ma andiamo avanti Natalia e Tamina Andiamo avanti Secondo me Non riescono ad andare avanti Perché i team attuali Nel man roster Delle donne Sono tutte quanti Imbarazzanti Sì ma poi È imbarazzante Anche ancora Che devono Reginald Si parla più di Reginald Che di Active Division E questo è un messaggio Che è brutto Allora Non so se tu lo sai Ma in America Si è storto parecchio Il naso Per il fatto Che la WWE Abbia annunciato Un po' A random Bayley contro Bianca Berer A WrestleMania Backlash Perché tutto è andato Prima nel segmento Di Bayley E sta cosa Ha fatto ruote Un pochino al culo Allora Beh Bayley Fasse cazzata Ogni tanto Parliamo Prima del segmento Prima che arrivasse Bayley In quel segmento Perché c'erano I Street Profits Che si erano Presentati alla corte Di Ziggler Rude Pretendente Un'altra Dato Shot Io Non capisco Cioè nel senso Poco dopo Ci hanno offerto Un bellissimo Rey Mysterio Con Dominic Mysterio Contro Otis E C'è il Gable Tanti match Che secondo me Poteva essere Tranquillamente valido Per una Dato Shot Per essere Minia Beres No Ci vogliono rimandare Gli Street Profits E ce l'hanno fatto capire Perché proprio Gli Street Profits Ci vanno a dire Che sono in ambro A contento Ma perché hanno perso In prima linea Ma hanno perso Hanno perso anche Rematch In maniera sonora E sono stati più furi Di Ziggler Basta Cioè mandiamoci Dominic e Rey A suo punto Cioè soprattutto Perché stanno facendo Qualcosa di bello Con Otis E il buon Che c'è il Gable Poi però ce la parliamo A parlare del match Però ecco Perché Street Profits Dovano rompere i coglioni Ancora Adesso non l'ho capito Poi però ecco A fermare Le loro discussioni Non vero Quelle tra Street Profits E Ziggler Si mette in mezzo Bayley Che da lì Tira fuori il suo promo Sì Va a puntare Inizialmente Il dito Contro Bianca Visto che è stata Insomma Bayley Quel titolo È stata una delle prime avversarie Quando Bianca è stata trattata Nello show blu Ha avuto anche una title shot Che l'ha battuta E da lì Sostiene Bayley Che non l'ha mai Ringraziata Adesso c'è il titolo Non ha mai pensato A Bayley Per un probabile Title shot Eccetera Eccetera E quindi Insomma Va a infierire Contro Bianca Il segmento Si interrompe Con Montez Che sta al telefono Proprio con la Testa Bianca Che gli dice Che fra poco Arriverà lì Nel backstage Accanto a Bayley E mi è piaciuto Un sacco Il volta faccia Che dopo L'arrivo di Bianca Ha fatto Bayley Perché da a puntare Il tipo Ah tu sei Un'ingrata Tutto quello Che ho fatto Per te Eccetera Eccetera Tutta la visibilità Che ti ha dato Eccetera Va invece A cambiare La rittata Ah io sarei Onorata Di sfidarti Avrei Semmenia Backlash Per il tuo Tino Fa tutto un promo Da super face Sorprendendo Un altissimo Bianca Belera Che rimane Un po' così Un po' così Se ne va A un certo punto Bayley Torna Come se si fosse Dimenticata Di dire qualcosa E gli va A ridere In faccia Bianca Perché non regge Più questo Finto personaggio E Bianca Sta perplessa Ora Bianca Scusarmi Bayley Per me è stata Meravigliosa Ok E' stato divertentissimo Il cambio Che ha fatto Però quando Ne esce male Bianca Che non riesce A dire neanche Ah vabbè sta A prendere per il culo Cioè rimane Lì imbambolata Come quasi Se ci ha creduto Alle parole di Bayley Ma ci puoi credere Alle parole di Bayley Eppure quando Sono andata via parlando Non ha detto niente Ma infatti Ho trovato molto Stato nel fatto Che la Dabbi Abbia anticipato Il match Grazie al promo Di Bayley Poi una volta Che è finito Il promo di Bayley Con tanto risata Bianca non è riuscita A dire nulla E si è continuata A dire che Bayley Avrebbe affrontato Comunque Bianca Che non aveva detto Sì o no A quella presa per culo E quello che poi Bianca Tecnicamente Come personaggio suo Anche come abbiamo visto NXT Cazzo io Poteva rispondere Invece è passata Da dare incoglionita Che non ha manco capito Che la stava prendendo Per il culo Cioè secondo me È stato Uno scivolone Incredibile Per Bianca sì Per Bayley Per Bayley Tanta roba Bayley continua Ad essere ragazzi Fondamentale Possiamo stare a dire Qui Che la Davide Bruin Aveva scluso WrestleMania Poi ha sentito Il pubblico Che Bayley Non c'ha più niente Ne hanno rostrato Short Ora però si dice Ah ora vi lamentate Perché Bayley Però guardiamo pure Com'è stato strutturo Tutto quanto Bayley tanta roba A me dispiace per Bianca Perché voi sapete Io adoro Bianca Ma cazzo La presa pesci in faccia Bayley la presa pesci in faccia Nuovamente poi Secondo me Nuovamente Perché a livello di promo Anche in passato Secondo me Non c'era proprio livello Con quella Bianca O quella Bayley là Vediamo un po' ora Come verrà struttura Tutto quanto C'hanno ancora un po' di tempo In vista del prossimo overview Ma Vediamo un po' Sasha Messa a lato Sasha che non ha ottenuto Manco lei Stora Sasha che vive un po' Il momento di Big E In questo momento Chissà però Se non vogliono aspettare Se non vogliono aspettare Per il prossimo overview Che vi ricordiamo Dopo backlash A meno che non si monti In una testa Ci sarà Money in the Bank E lì dovranno Comunque fare dei match Che ti fanno pensare Che possa esserci L'incasso Già quella sera A me piace anche Romanzarla così Non perché mi voglio difendere Da sapere che a volte Sto lì a criticarla Però Voglio romanzarla così E sperare Che abbiano tenuto Sasha Per tenersa In Money in the Bank Vediamo Ripeto Bayley è stata Un bonbon Un bisù Bianca Prima Mi tengo Il premier event Alistair Black Perché Prima abbiamo parlato Giustamente di Otis E Serge Gable Contro Remisterio e Dominic Voglio chiudere Sta parentesi qua Perché secondo me Anche questo è stato Un bellissimo match Io sono sorpreso Dall'alchimia Che hanno questi due Da team Non perché Sono Lady Scarce Assolutamente Da una parte C'è una leggenda Del wrestling Remisterio L'altra parte C'è suo figlio E dall'altra Sono Serge Gable E Otis Che non è che fanno Team da 200 anni Però ancora una volta Confermano quello Che abbiamo sempre detto Sti due Per quanto possono essere Magari complementi Diversi errori Hanno trovato Fin da subito Un'ottima alchimia Si vede Che si divertono A lavorare insieme Hanno studiato Anche tante cose Perché hanno anche Ottime tempistiche Oltre ad un ottimo Parco mosso insieme Per me Gable Continua di È stra È un jolly Raga Pure se ci vado io Secondo me È stra sottovalutato Perché Gable Ha qualcosa in più Quando devi fare Tutta la roba Con la team division Lucella Ste cose E pure sto rapporto Con noi Mi piace sempre di più Ecco Qua ti hanno sfondato Un bellissimo match Con ragazzi Un altro bellissimo match Con delle parti centrali Fondamentali Dove si struttura Sempre bene La potenza di Otis La potenza più che altra Esplosiva di Otis Che mai è stata in discussione L'intelligenza di Gable Ma anche il dinamismo L'atletismo Tutto quello che hanno Dominic e Rey Perché ragazzi Rey Mysterio Questo match sembrava Avesse 20 anni Più che mai Rey è un'invencchia Rey è sementato Certa roba Qui assurda Con velocità di esecuzione Più che altro Perché a volte le fa Però una velocità di esecuzione Di quella di quando C'era 20 anni Io sono rimasto così Sorpreso Bellissimo La parte finale Con Dominic Che si è inventato Quel Sunset 3 Bomb Con Chad Che viene sbattuto Contro la barricata Poi Dominic Che lancia Chad A suo padre Che gli fa la 619 Frog Splash 1,2,3 Ma bella pure Come l'ha evidenziata L'ipat Che ha detto Ma come si chiama Sta roba Che si è inventato Dominic Sunset 3 Bomb Ho detto Mamma mia Che roba A me Mi è piaciuto molto Anche lì il tavolo di commento Che ha evidenziato Benissimo quello spot Facendo ricavere Che oh Avrò fatto qualcosa Di particolare Per chiudere sto match Perché comunque Chad e Otis Sono un ottimo tattino Quindi Per me era tutto bene Anche i vincitori qua Non c'è un po' Anche i capi No no Sì ma Non c'ho niente da dire Ma noi stiamo aspettando Solo il momento In cui Dominic E Remissirio Vadano contro Il Il Rude E invece no Ci ritroviamo Perché non si sa Mi auguro in mente Che Remissirio E Dominic Si facciano sentire E dicono Oh voi avete già La vostra chance Adesso lo cannoi Non sarebbe un promo Da Hill Sarebbe un promo Intelligente È un promo Da persone Che ragionano Svegliati Ora non c'ho niente Contro gli Street Profits Perché assolutamente Perché dobbiamo Anzerare il lavoro Che stanno facendo Gli altri quattro E si stanno a comportare Gran bene Assolutamente Cazzo Diamogli pure qualcosa A loro Comunque Gli Street Profits Hanno fatto il regno A Raw Siamo fatti il regno A Smackdown E sono dura di tanto Hanno masserato tutti Non dico Buz Però cavolo Ce stanno Ray e Dominic Ma Dalghiero no Ma non capisco Perché loro Si sono puntati Nel volere un altro Short Anche quando hanno Perso il match Ma va bene così Andiamo a parlare Del ritorno On screen Di Alistair Black Ora Io faccio una prediction Che almeno Ci dovrà raccontare Una ventina Di capitoli Del libro Del padre oscuro Prima di vederlo Sul Prediction Tu hai gioco Ma non ti ha dato Quei vibes Di Joseph Sid Però questa è una versione Dark Di Joseph Sid Ma io No Non ho quel Vibes Perché lui che cosa Ti ha raccontato In realtà Ti ha raccontato La Luke Si dai Ma ti ha raccontato Che lui Da ragazzino Aveva questa figura Di questo Padre oscuro Che ha fatto Delle cose Brutte Ma lui Non poteva Capirle Perché lui Era un ragazzino Quindi io non lo vedo Non lo paragono Al padre No Dei vibes Dei vibes Lo paragono Più a un Adetto A un succube Addirittura Di questo Padre oscuro Si Infatti voglio Arrivare a qui Ora Dove vogliono Arrivare Con il padre oscuro Qui è il padre oscuro Sicuramente Black Almeno da questo Primo qua Ci ha fatto capire Che sarà il Perché lui Se la prende anche Con la gente Dicendo che sono Dei mostri Da Che ha detto Dei mostri Da condannare Il padre Che gli ha insegnato Che la gente Erano dei mostri Però l'ha messo Anche nella testa Di Black Esatto Si Qualcuno Che si è reso conto Che nella sua vita C'è stata una figura Che lo ha plagiato Però tante volte È d'accordo Su questa figura Tante volte no Perché mo Che è grande Si rende conto Che quello che è successo Quello che ha visto A volte non è Però da una parte È plagiato È strano È bello Facciamo Un applauso Anche A come è stata Raccontata Questa storia Perché lo stile grafico Delle animazioni Ha fatto Il montaggio È stato top Guardate bene Le figure Importanti Che venivano Descritte in nero Quindi il bambino Il padre La donna Che è stata portata via Secondo me Ci regaleranno Tante cose A livello De promo Sicuramente Sì Anche a livello Di video Secondo me Queste parti in nero Saranno importanti In qualche modo La chiave di lettura Però a modo Capite dove si vuole Andare a parlare Cioè con chi Te la stai prendendo Da che parte Stai Perché lui Punta il dito Però È difficile Secondo me Dovrà andare avanti Con questa storia Quindi Vediamo Quanti capitoli C'erano a questa storia Non lo so Chapter 1 I Rai Però A me piace davvero tanto Questo ritorno Di Alistair Black Gli auguro al meglio Qualcuno Mi disse in passato Black è un fenomeno Sorenghe Ma quando si tratta Di promare Cosa Cioè Fondamentalmente Adesso ti posso rispondere Proprio all'epoca Ma guarda che Nextie comunque Faceva roba Straordinaria Con un personaggio Che è completamente diverso Da questo Per chiudere Però Ecco Di cosa vogliamo parlare Del carisma di Black Allora Scusate A una certa Gli hanno fatto mettere Una benda di fronte all'occhio Senza motivo No Ma alla fine Pure quando faceva I promo Da dentro La stanza Pick a fight with me Diceva solo quello Ok Però Te lo interpretava Era un puraccio Chiuso dentro Una stanza buia Che gli dicono Dai devi dire Pick a fight with me E che cosa Ti può raccontare Ti puoi far promo E quello Che gli hanno detto Ma lo interpretava bene Cioè era bello Sentirlo dire Pick a fight with me E diceva solo quello Però Era lì Era molto Dimentato Che è quello Era il suo personaggio E quello Gli dicevano De ti E lui doveva dire Che poi li ammettasse Però Sì Ha fatto il suo Black era spaventato Black era voloso Ma tu ricordi tu Il promo Di quando è tornato All'infortunio Con Nicky Cross Brava Con Nicky che sapeva Chi lo aveva attaccato E lui che cercava Di farselo dire In questo tono calmo Per non spaventarla Ma Aggressivo Perché Raga Black C'ha tutto Completo Se gli dai Le carte in tavola Per farlo Parliamo ora Del main event Con Cesaro e Daniel Bryan Che sono usciti Dallo stage Per andare a stringere In primis Le mani A Remisterio E Dominic Dopo aver battuto Ceghevole e Odis Una cosa che mi ha lasciato Molto sorpreso Perché Cesaro Lì ha fatto proprio L'uomo spogliatoio Perché lui il primo Ave stretto la mano A Dominic E poi a Remisterio Cosa che fanno Di solito Ovvero il leader Dello spogliatoio Perché lo stanno Vando Poi i due Si sono avviati Sul ring Daniel Bryan Le Mi ha fatto rire No Questo role L'ha fatto Dopo il post match Quello che ha fatto Roman Oh Roman Nel post match Samuajohn Nell'aria Samuajohn vibes Quando abbiamo visto Brian Nell'inizio del post match Roman Oh Roman Bellissimo Bellissima Grande citazione di Brian Che ancora nel cuore Samuajohn Però ecco A parte di iscriversi Nel Menevent Brian è tornato un po' A prendere il culo No Il troubleshift Che magari si era fatto Subito Si era fatto pure lì A aspettare Volevano questa risposta O me la dai O me la prendo Quello un po' Cesaro l'ha detto No Se tu non vieni Venimo noi E insomma Poi Gli suona la team 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 S'accompagnato ovviamente Da Poleman e Geuso Sale sul quadrato Va subito a puntare Cesaro Che cosa gli va a dire Però Te 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 Pidanto le palle Quello il discorso di Roman Da una parte è stato Bello Questo Roman Che continua a disprezzare Cesaro Fin dal primo momento L'ha disprezzata Quando Cesaro è andato lì a parlare Dalla scorsa settimana Roman neanche l'ha voluto ascoltare E si è andato Quindi c'è proprio il disprezzo Continuo Di Roman Su Cesaro E dice Tu la data shot Non l'avevi Non sei a mio livello Non ci provò proprio E punta a Brian A lui Gliela concede Con un Brian Un po' Curbato Da questa scelta E con un Cesaro Che prende in mano il microfono Quasi di rassegnazione Gli va a dire Prendila Cioè Non ti preoccupa Non pensa a me Prendila questa opportunità Però Roman aveva messo anche Un effetto Io ti propongo Un bacio Per il titolo universale Soltanto però Se tu metti la tua carriera Qui a Smackdown On the line E il bello è questo Roman Reigns Vuole cacciare Daniel Bryan Dal suo show E quindi Gli porge L'ultima Dello shot E Qualora Daniel Bryan Perdesse Settimana prossima Contro di lui Sarebbe Bannato Dallo show Blu Soprattutto In presenza Di Roman Reigns Tutto questo Potrebbe essere letto In 300 modi Fatto sta che Bryan Ha accettato tutto quanto E per forza E' stato Bello E' stato Furmo anche Roman Reigns Che dice Oh Io questo Mo' ritrovo pure Nel frigo di casa Mo' Gli do L'ultima opportunità Dopodiché Però E te ne vai E a me Preciò tantissimo Lì Cesaro Che nonostante Il disprezzo Di Roman Poteva partire male E attaccarlo Come se si tira Un attimo Indiepro Dopo che Tutti Lo stesso Daniel Bryan Lo ha tirato avanti Perché Daniel Bryan Stava lì A pompare Cesaro E lui Mi fa un passo indietro E ha detto Vabbè A me non me la vuole dare Vai Daniel Bryan Prendila Non ti preoccupare Tu eri qui Per darla a me Vai Prendila E a me Un po' C'era la malinconia No? Che un pochino Magari gli avrà fatto male Questo disprezzo Però Nonostante ciò È rimasto calmo E ha detto Vabbè La vuole dare Dai Mentre per Bryan Mi è metto da parte Un'altra volta Quale pensi che sia Il futuro di Bryan Pensando anche a Edge Eh Adesso è uscita la notizia Che Edge è tornato a Raw No È stato spostato Un momento a Raw Però non ha senso Tutto questo Perché è ovvio Pensare nuovamente ad Edge Pure che potrebbe intervenire Potrebbe non intervenire Però ecco L'intervento di Edge Cosa dovrebbe portarti Tipo è la sconfitta Di Daniel Bryan Che però Sarebbe costretto A andare in un altro show O A sparire Perché Sta parlando molto Del contratto a scadenza Anche di Bryan Mi sembra folle Tirarlo fuori così Dalle scene Non farlo manca A draftare Raw NXD Sarebbe qualcosa De folle Ma tu sei folla Non rinnovare Un Daniel Bryan Che sta così Poi dipende pure da lui Da lui Da quello che vuole fare Daniel Bryan Rispetto a quello Che gli viene Fa più discorsi da part-timer Ultimamente che altro Però ecco Avevo il Daniel Bryan Part-timer Alla Edge Non è che sarebbe male Per niente Tutto da vedere Fatto sta che è stato bello Assolutamente sì Beh quindi Bryan rischi Di essere bannato Da SmackDown Soprattutto in presenza Di Reigns Eh sarebbe un colpo De scena Famoroso quello Ci mette tanto hype Anche perché Senti a una prossima Ci sarà Big E Contra Pollo Anche per il titolo Diciamo che SmackDown Ragazzi È uno show Che non ti puoi perdere È uno show Che non ti puoi perdere Davvero mi lascia basito Ripeto anche qui Nel finale dei video Che abbia Nei stessi Cioè io non Non riesco più a crederci Davvero adesso Non lo so Finché non Non mi riesce fuori Vinso Stefani Tripleccia Che mi dicono Sì Io non ci credo più A sta cagata Vi dico la verità No è impossibile Soprattutto da quella puntata del genere Bella 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 Fateci stare la vostra Ora qui sotto Nei commenti Spolliciate Commentate Condividete Iscrivetevi ai canali Qui sotto in descrizione Trovate tutti i link Ai canali di Peonia E proprio da lei Peonia Di Elite Coin of the Universe E da Mirai a tutto Too Sweet